Musica Venerdì 13 aprile, buongiorno ai nostri ascoltatori, ben trovati all'appuntamento mattino con pomeriggio con noi. Andiamo sulle pagine online testate della nostra zona per un aggiornamento delle notizie della mattinata. Cominciamo con la testata Lucca in diretta, apertura dedicata alle vicende legate alla sanità, quattro nuovi punti del 118 in provincia di Lucca, ma via il medico dalle ambulanze, a rischio i presidi sui territori montani. La regione toscana sta lavorando a un riordino complessivo della gestione dell'emergenza urgenza sanitaria che in provincia di Lucca potrebbe portare a quattro nuovi punti da dislocarsi tra Bersilia, Piana e Valle del Serchio, sempre che i criteri finora ipotizzati siano confermati. Allo stesso tempo alcune ambulanze con medico a bordo verranno sostituite da automediche attrezzate per il soccorso avanzato. Andiamo ora sulla testata allo schermo, vediamo. Nasce a Capannore il primo progetto di economia circolare legato alla carta. Poi abbandono rifiuti, 125 multe a Viareggio sono state elevate in soli tre mesi e 1937 contravvenzioni per auto lasciate in sosta durante lo spazzamento. Vediamo qualche dettaglio in più di questa notizia che oggi verrà ripresa da molte altre testate. Qui vediamo una foto dell'assessore alla Polizia Municipale, Maurizio Manzo, la comandante della Polizia Municipale. Giro di vite sull'abbandono dei rifiuti. Tempi duri per chi lascia la spazzatura in giro o la conferisce nei giorni sbagliati. Si rischia un verbale che va da 60 a 300 euro, oltre a eventuali procedimenti penali. Attenzione perché ci sono le telecamere e le telecamere riprendono anche questi momenti. Le 125 contravvenzioni elevate in tre mesi sono state proprio dovute alla visione dei filmati delle telecamere che hanno inchiodato senza nessun risparmio coloro che hanno trasgredito alla norma di provvedere al deposito dei sacchetti della spazzatura nei giorni previsti dalla raccolta differenziata o anche bollati coloro che hanno abbandonato ai figli della strada o agli angoli delle strade i sacchetti di spazzatura indifferenziata. Andiamo sulla testata del Tirreno, online da Versilia. Appiccano il fuoco in chiesa a Torre del Lago e lasciano escrementi. Provvidenziale l'intervento del parroco che ha evitato che la chiesa andasse a fuoco. Vediamolo qualche dettaglio perché questo mi sembra un crimine decisamente importante, grave. Provvidenziale è stata la presenza di Don Gilberto in chiesa, la parrocchia di San Giuseppe a Torre del Lago dove nel pomeriggio di ieri mani ignote hanno appiccato il fuoco ad un panno dietro l'altare dove si trova l'orgolo ad un passo dal quadro elettrico della chiesa. Il vice parroco si è accorto delle fiamme in tempo, per spegnerle ha utilizzato acqua, racconta il Tirreno e si può davvero dire che sia andata bene con l'odore di bruciato che si sentiva anche in strada. Un atto di vandalismo giovanile è la prima considerazione del commissariato di polizia intervenuta a Terre del Lago con una volante. Andiamo a vedere se ci sono altre notizie in cronaca della Versilia sul Tirreno di oggi. Picchiata e violentata per cinque anni. Vediamo questa notizia nei dettagli. La Corte d'Appello ha confermato per l'uomo la pena di primo grado. Sei anni. Vediamo brevemente picchiata anche con un mattone e violentata dal convivente perché tra i tanti altri motivi a letto si presentava in pigiama e non nuda. Lui italiano e lei straniera. Accadeva in Versilia ai giorni nostri, dal 2007 e il 2011. Il 6 aprile scorso la Corte d'Appello di Firenze ha confermato all'uomo, difeso dall'Avvocato Tiziano Nicoletti, la condanna in primo grado del Tribunale di Lucca. Sei anni di reclusione, dei quali cinque combinati per il reato più grave, ovvero la violenza sessuale con l'aggiunta di 11 mesi e 20 giorni per il reato di maltrattamento in famiglia e 10 giorni per quello di lesioni personali in continuazione con la violenza sessuale. Andiamo ora sulla Nazione, edizione versiliese, Nazione online. Gianna Nannini fa tappa a Forte dei Marmi con Fenomenale, a Villa Bertelli, alla vigilia di Ferragosto. Poi ancora vediamo questa notizia, lavori per il raddoppio ferroviario Pistoia-Montecatini, la cosa interessa anche Viareggio, naturalmente. Vediamo qualche dettaglio in più. Proseguono i lavori, primo lotto per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. Dunque, dalle 15 di sabato 14 aprile, quindi domani, alle 5 di lunedì 16, la circolazione tra Pistoia e Montecatini sarà sospesa. Durante l'interruzione, tra le due località, sarà attivo un servizio sostitutivo con l'autobus via Autostrada A11. Andiamo ora sulla Nazione, edizione lucchese, droga, scommesse e smartphone. In 1000 provano a disintossicarsi i numeri del CERT, della Piana, ma i casi potrebbero essere 10 volte di più. Poi ancora, Cartario, l'azienda che punta al record, la macchina più veloce del mondo, ne abbiamo parlato ieri, ma la notizia è talmente divertente che è stata ripresa ancora oggi. Confindustria in lutto per la morte di Antonio Orazzi, parliamo della nostra zona. Badante fa sparire 15 mila euro tutto l'oro al Monte dei Pegni. E poi ancora, le donne indossano i guantoni contro la violenza e COSAP, scontro fra Confcommercio e il consigliere Bindocci. Andiamo su tgregione.it, cronaca della Versilia. Vi presentiamo il maestro Salvatore Frega, candidato alla direzione artistica del Festival Pucciniano. Eccolo qua, Salvatore Frega è pianista e compositore italiano di musica colta contemporanea e musica sperimentale. È nato a Cosenza. Poi la mostra agrozootecnica, da domani sabato il taglio del nastro a Massarosa. Sarà il singaco Mungai e l'assessore all'agricoltura Mariano Donati, che taglieranno il nastro di questa edizione 2018 della mostra agrozootecnica, molto partecipata e frequentata a Lucca. Poi difendiamo i nostri figli, il comitato contro il ciclo di incontri sull'ideologia gender. Poi scrivere il cibo dalla ribollita al sushi e ignoti tentano di incendiare la chiesa di Torre del Lago. Il Partito Democratico ha il nuovo segretario, l'ex sindaco di Viareggio, Leonardo Betti, che è stato eletto alla unanimità. Poi giro di vite sull'abbandono dei rifiuti, 125 multe in tre mesi e 1937 verbali per auto in sosta durante l'orario di spazzamento. Acqua torbida a Massarosa, la macchina dei rimborsi è partita, avanti con i lavori. Vediamo ora invece la nostra testata, noi TV web, Capannori, il comune contro il mega-ankar che l'esercito vuole costruire a Tassignano. Il comune di Capannori è contro questo mega-ankar che l'esercito vuole realizzare all'aeroporto di Tassignano. Si tratta di una struttura lunga 35 metri, larga 22, ma soprattutto alta 28 metri, destinata a diventare la più alta di Capannori, a parte i campanieri. Ebbene, è tutto per questa prima parte di pomeriggio con noi. Tra poco il nostro ospite sarà l'avvocato, nonché presidente del Consiglio Comunale di Viareggio, Paola Gifoni. Linea alla regia. Seconda parte di pomeriggio con noi, salutiamo coloro che soltanto ora si sono messi all'ascolto della nostra trasmissione e salutiamo la nostra ospite, è venuta a trovarci la presidente del Consiglio Comunale di Viareggio, ma in questa veste di scrittrice, Paola Gifoni. Buongiorno avvocato, grazie di aver accettato questo nostro invito. Paola Gifoni ha recentemente pubblicato per edizioni grafiche Ancora un libro straordinario, un libro che si intitola L'anima in un angolo. Eccolo qua giù, questa è la copertina e poi dopo ci faremo spiegare anche le ragioni della scelta di questa copertina. È presidente del Consiglio Comunale, come abbiamo detto, è un avvocato naturalmente ed è anche madre e moglie, quindi una donna super impegnata. E ha scritto un libro per raccontare le vicende spesso drammatiche che le donne vivono con sempre maggiore frequenza oggi. Come nasce questa idea, Paola? Allora Massimo, questa idea è nata da una profonda ricerca giurisprudenziale che mi ha appassionata la materia del 2012, perché ho partecipato alla prefazione del DDL sul femminicidio, che poi è diventata legge l'anno dopo. e mi sono trovata davanti a un enorme bagaglio sia culturale sia giurisprudenziale e mi sono resa conto che c'era bisogno di raccontare un po' di più sul fenomeno del femminicidio, non da un punto di vista, diciamo, esplicitamente vittimeologico, quindi vedere la sofferenza, la vediamo tutti i giorni, purtroppo ogni giorno si dice circa nel mondo ogni 60 minuti viene uccisa una donna, ma proprio per cercare di creare una sorta di vad de mecum, un piccolo codice che potesse permettere alle giovani generazioni, soprattutto alle donne, di capire quando già nei primi incontri si ha a che fare con un crimine, con un uomo, un soggetto violento. E quindi questa cosa mi ha appassionato, ho scoperto tantissimo dalla giurisprudenza, sono riuscita, perché non sono l'unica scrittrice all'interno del libro, c'è anche con me una psichiatra, direttrice della clinica di Santa Chiara, la professoressa Dell'Osso, che mi ha aperto gli occhi da un punto di vista scientifico che non conoscevo, perché credevo che il femminicidio fosse solamente un problema culturale, economico, sociale, non è così, anche scientifico. E mi ha aperto gli occhi proprio su questo, perché la donna che subisce violenza, molto spesso subisce poi una sorta di, possiamo chiamarla malattia latente, che è il PTSD, che sarebbe Post-Dramatic Social Disorder, una sorta di disordine sociale, psicologico, che la porta poi ad avere una visione dell'evento violento subito, come se fosse quasi di ordinaria quotidianità. Molto spesso sentiamo dire che mai come in questo momento si sono verificati episodi di violenza e di uccisione di donne, tra l'altro, e in passato queste cose non avvenivano. È così? No. Diciamo che la violenza è insita nell'uomo, cioè nel DNA, perché abbiamo ancora ad oggi una società prettamente maschilista, quindi di matriarcale c'è ben poco, è molto legata a quella che è una visione verticistica dei rapporti sociali. E quindi cosa succede? Che soprattutto negli ultimi tempi l'uomo si sente sempre più disorientato, ci sono sempre più donne che lavorano, che raggiungono ruoli di importanza politica o sociale, e questa cosa disturba. Disturba e messo anche il periodo storico in cui viviamo, dove la crisi economica poi tende ad avere, diciamo, la sua influenza anche sui rapporti interpersonali, e purtroppo la violenza viene fuori. E bisognerebbe fare qualcosa per curare gli uomini soprattutto. Si fa qualcosa? Io anche nel libro affronto questa problematica non prettamente da un punto di vista femminile, ma proprio da un punto di vista di complementarietà dei ruoli, perché io ritengo che molto spesso anche noi donne usiamo il nostro strumento, che è la femminilità, in maniera deviata, quasi come se fossimo ventrileco e maschili. Veniamo poste, questa cosa ecco appunto me la sento un po' mia, magari è una mia valutazione soggettiva, però anche nella mia esperienza politica di avvocato mi rendo conto che molto spesso veniamo posizionate per evitare di posizionare uomini scomodi per altri uomini. E vedo negli uomini molto spesso proprio la volontà di posizionarti in alcuni ruoli quasi per metterti in difficoltà. Diciamo che ecco un rapporto, un percorso psicologico nel vero violentatore o di colui che uccide una donna va fatto, ancora troppo poco si fa. Spesso noi ci troviamo anche nelle cause in tribunale ad essere un attimino disorientati, perché non c'è una vera e propria formazione, informazione per l'avvocato, piuttosto che per il giudice. La stessa valutazione del rischio di recidiva da parte del giudice, è una valutazione fatta casualmente, caso per caso, perché in Italia non c'è una vera e propria legge che ti prevede qual è il rischio di recidiva per cercare appunto di far sì che ci sia un percorso sociale di rintroduzione dell'uomo nel suo ruolo in quanto uomo e non in quanto violento. Per dire, in America adesso si sta sperimentando questa nuova tecnica che si chiama SARA, che prevede proprio una sorta di vademecum psicologico-psichiatrico da curare sia con le medicine sia con varie teste psicologici, dove appunto è chiara la valutazione di pericolosità sociale. Ti faccio un esempio. Molto spesso il reato di furto viene penalizzato in quanto una persona si reca in un supermercato, piuttosto che in una gioielleria, e ruba un oggetto. Di solito la pericolosità da che deriva? Dal fatto di essere indigente, dal fatto comunque di avere una malattia, ed è riconosciuta da un punto di vista scientifico. La violenza molto spesso non viene riconosciuta né dalla parte dell'uomo che la causa, né dalla parte della donna. Uno schiaffo, cosa vuoi che sia uno schiaffo in famiglia. Invece è l'inizio forse di una tragedia. È l'inizio di una tragedia. Potrebbe essere l'inizio di una tragedia. Il fatto di prendere nel portafoglio di una donna lo stipendio, e sì, serve al menage familiare, ma quando la donna poi non ha soldi per andare a fare la spesa, è un reato. E quindi quella del femminicidio deve essere proprio considerato un crimine, vero e proprio. I ultimi dati Istat ci dicono che la maggior parte delle donne vengono uccise dai compagni, dai mariti, non da persone strane. Le stesse mass media danno un rapporto deviato della donna. La pubblicità, la donna è considerata un oggetto. Viene considerata o al focolare domestico, a cucinare, oppure come un mero oggetto di sfruttamento sessuale. Esatto. Senti, tu scrivi questo libro, l'anima in un angolo, dedicandolo ad una persona, Bucci Soppelsa. Chi era e che cosa ha significato per te? Allora, Bucci ha significato tantissimo per me. Lei è stata una grande artista poliedrica. Era una scrittrice, ha scritto un bellissimo libro. Io mi sono innamorata di questo libro e ho deciso di chiamarla e di conoscerla. Ci siamo conosciute a Roma, che non è un mondo per donne. Mi sono innamorata poi della sua pittura, della sua scultura. Era una donna fortissima, ma allo stesso tempo molto sensibile. e mi ha aiutato in un percorso della mia vita difficile a cercare di impermealizzare quella che è anche il quotidiano, cercare di fare scivolare un po' addosso tutte le cose, nonostante un'eccessiva sensibilità interna che mi appartiene e apparteneva a lei. Purtroppo è mancata, io ho dedicato il libro perché noi avevamo previsto di fare un percorso, lei doveva intraprendere con me l'idea del progetto del libro e di scrivere la parte di scrittrice, perché lei era una scrittrice, sono un avvocato, infatti nel libro tratto solo la parte giurisprudenziale, poi c'è una scrittrice e c'è la dottoressa che ti ricordavo prima. E quindi per me ha significato tanto, veramente tanto. Fino al punto che vedo che molte delle sue opere pittoriche fanno parte dell'arricchimento di questo volume. Sì, lo stesso titolo è derivato proprio dall'opera, da una sua opera che è l'urlo senza voce, che abbiamo sulla copertina, dove lei appunto dà queste immagini molto forti di donne con volti dipinti, unghia dipinte, però che hanno pochissimo del femminile, sembrano quasi una sorta di mostri. E quindi ho deciso appunto di chiamare l'anima in un angolo il libro, proprio perché considerando che mai come oggi l'anima viene sempre messa in un angolo. Noi abbiamo soprattutto l'idea di una società basata sulla figura e il materiale, ma mai facciamo un'introspezione interna per capire quanto invece l'anima che costantemente può arricchire quello che è il corpo. Certo. Io volevo ritornare per un attimo sulle cause che esplodono e portano a comportamenti molto spesso drammatici e ferrati dell'uomo. Quali sono, secondo il tuo punto di vista, da avvocato e da donna, le ragioni che spingono un uomo ad essere così violento? Allora, le ragioni sono molte. Come ti ho detto, il femminicidio, considerando femminicidio non solo come morte violenta della donna da parte di un uomo, ma anche come vessazione psicologica, economica, sociale, culturale, e perché no, anche religiosa. Che ha altrettanta violenza. Certo. Noi non ci rendiamo conto. Il continuo coinvolgimento psicologico di una donna che non viene mai considerata abbastanza, non fa mai abbastanza, non è mai abbastanza madre, non è mai abbastanza compagna, e porta l'uomo comunque, ma anche inconsciamente, ad abusare del suo ruolo. È proprio per una visione, comunque ancora troppo verticistica della società. Non siamo ancora abituati a quella che è la complementarietà dei ruoli, perché comunque la donna può dare un supporto diverso e complementare rispetto a quello dell'uomo. L'uomo deve partire dal fatto di considerare molto semplice la donna un soggetto, la donna è l'altro soggetto. Molto semplice. Senti, questo libro è già stato presentato ufficialmente oppure diciamo è l'esordio oggi? No, no. Il libro è già stato presentato ufficialmente in comune a Viareggio, ho avuto l'onore di avere il sindaco con me e la dottoressa Dell'Osso che gira per il mondo perché la dottoressa Dell'Osso è fra le 50 scienziate più importanti e influente proprio sul tema del scientifico del femminicidio. Diciamo che c'è stato un primo contatto con la Feltrinelli che ha pubblicato online sulla piattaforma il libro tramite il mio libro Feltrinelli e per mancanza un po' di tempo non abbiamo ancora diciamo dato l'espluat però mi propongo presto, molto presto di fare qualcosa anche a livello quando si formerà questo benedetto governo anche politico, perché no, legislativo dopo aver partecipato alla prefazione proprio per cercare di venire fuori e fare finalmente adottare il famoso e benedetto braccialetto elettronico che tanto potrebbe fare contro le cause dei femminicidi. Sono chiaramente d'accordo. A livello istituzionale invece come Presidente del Consiglio abbiamo questa notizia che si sta costituendo forse già con la prossima seduta al Consigliere del Comune di Viareggio la Commissione Pari Opportunità. Sì, siamo molto contenti di questo anche perché una Commissione Pari Opportunità non c'era da vent'anni e io ringrazio il mio assessore di riferimento Sandra May le consigliere che hanno voluto fortemente questa cosa tra cui la consigliere delegata Carraresi la consigliere Puccetti e tutte le consigliere di maggioranza e di opposizione ma anche consigliere perché abbiamo previsto di fare una commissione dove saranno presenti giustamente anche gli uomini. Senti, l'anima in un angolo è un unicum o ci sarà un seguito? Allora, per me a me piace moltissimo soprattutto fare queste... Scrivi anche poesie tra l'altro? Sì, scrivo anche poesie. Il lato dell'anima per me è terapeutico quindi scrivere è liberatorio diciamo che sinceramente come hai detto te prima i miei ruoli sono molti soprattutto quello di madre sto cercando di farlo al meglio magari quando i ragazzi saranno un pochettino più liberi io avrò uno spazietto in più per scrivere perché no? Complimenti sinceri da parte di tutta la nostra redazione all'avvocato Paolo Agifuni presidente del Consiglio Comune di Vereggio oggi nella veste di scrittrice che ha presentato questo libro L'anima in un angolo dedicato, lo ricordiamo ancora una volta ad una persona a lei particolarmente cara Bucci Sopelsa un'artista, scrittrice una donna di straordinaria bellezza interiore giusto questo? Sì, giustissimo Poi volevo se posso ringraziare anche Mary Montagnani che è una critica d'arte che ha voluto che il libro fosse pubblicato parti del libro e una bella intervista sulla piattaforma Meme Cult che sarebbe una piattaforma virtuale dove ci sono circa 40.000 giovani artisti scrittori poeti e che quindi appunto mi sta aiutando un po' a diffondere il messaggio perché è molto importante oggi non solo informare formare le donne gli uomini tutti su questo problema che è una problematica scottante e proprio per questo io vorrei che il mio libro fosse una voce nel silenzio non voglio ottenere nulla da un punto di vista economico ma soprattutto da un punto di vista morale per far sì che questa piaga piano piano perché da un punto di vista giuridico e legale noi abbiamo tutti gli strumenti quello che manca è un coordinamento fra i vari enti così che questo venga considerato un vero e proprio crimine contro l'umanità è un crimine di Stato se non si riesce a fare qualcosa per cercare di arrestare il fenomeno grazie a Paola Giffuni noi ci vedremo puntuali lunedì domani e sabato questa trasmissione non c'è lunedì come sempre alla solita ora buon prestimento di giornata arrivederci arrivederci grazie a tutti